Nissan Leaf è un'esperienza già bellissima di per sé, ma parlarne qui a Parigi ha un valore sicuramente maggiore. Penso proprio di sì, credo che la Nissan Leaf sia degna di essere adeguatamente pubblicizzata e supportata, perché è un'auto dalle prestazioni meravigliose. Sono Vitor Onzo Mondelli e sto facendo la mia parte per la conquista del miliardo di chilometri.